Buongiorno a tutti carissimi, oggi sono qua con un ospite super super speciale che collabora con Italiano Automatico ormai da tanto tempo e il nostro obiettivo oggi allora, il mio, quello di farvi conoscere Giulia e darvi una conversazione naturale da ascoltare, utile, bella e divertente e questo è l'obiettivo principale, farò sette domande a Giulia ma prima di iniziare, la prima domanda che mi sono segnato qua è Giulia presentati un po' chi sei, quanti anni hai, di dove sei, chi è Giulia in poche parole Allora per quelli che non sono studenti di Italiano per la vita e non mi conoscono sono una delle insegnanti di Italiano per la vita e anche la persona che ogni tanto risponde alle email quindi magari qualcuno mi ha parlato con me e ho l'età di Albi, devo sputare il rospo e abbiamo la stessa età, quest'anno farò 28 anni e sono del nord Italia, di Trento che è una città vicina all'Austria è una città di montagna Esatto, esatto e io ci terrei a dire giù che non qualche volta Giulia risponde alle mail Giulia è la capa delle mail quindi se ci avete scritto o su YouTube o su Instagram o via email eccetera di sicuro c'è stato lo zampino di Giulia è un detto italiano no? C'è stato lo zampino ovvero c'era il lavoro di Giulia no? in queste cose e ok grazie Giulia allora per questa piccola intro e allora punto numero due allora ragazzi passiamo subito alle cose toste ma prima di continuare vi ricordo anche ecco come detto Giulia è una delle insegnanti di Italiano per la vita e presto arriverà la riapertura di Italiano per la vita quindi ricordatevi che c'è la lista d'attesa per chi non vuole perdere appunto la riapertura di questa piattaforma dove ci sono contenuti per migliorare il vostro italiano e continuando la domanda numero due che ho per Giulia è che consiglio daresti a chi è ancora bloccato o ha paura di parlare in italiano ma capisce molto? allora super importante anche se non è facile perdere la paura perché è quello che blocca sempre e non si lascia andare avanti con lo studio della lingua quindi quando si perde questa paura diventa poi tutto molto automatico e direi anche abbastanza veloce nell'apprendimento perché una persona si rende conto che ha imparato qualcosa che sta avanzando nello studio e piano piano migliora insomma si vedono i miglioramenti quindi perdere la paura è la prima cosa assolutamente Giù e diciamo che in questi anni perché Giulia da tanti anni aiuta anche persone singolarmente aiutare a sviluppare il proprio italiano a sbloccarsi e hai visto che questo problema è molto comune quindi che consigli magari diciamo pratici dai per la persona che è un po' bloccata tipo per perdere questa paura allora sicuramente come preparazione diciamo prima del parlato ascoltare tanto come diciamo spesso e anche leggere molto cose su temi che magari interessano e questo ci avvicina un po' di più la lingua forse e ci aiuta anche a trovare del vocabolario che ci interessino di temi che ci interessino quindi dopo piano piano e assimilando questo vocabolario sicuramente perdendo un pochino questa paura che abbiamo di parlare e riusciamo a comunicare anche con gli altri esercizi che fanno bene prima di parlare con un nativo o con altre persone magari possono essere esercizi come parlare davanti allo specchio e parlare da soli a casa anche se sembriamo un po' pazzi ma è un esercizio che sicuramente aiuta concordo concordo pienamente Giù è un consiglio che do anche io spesso quello di parlare da solo e accompagnato sempre come ha detto Giulia da questo ascolto no? questo grande ascolto che continua della lingua e soprattutto di cose che ti interessano così che continui a sviluppare la familiarità con l'italiano quello è importantissimo perché molti pensano che per sbloccarsi a parlare a volte sia solo parlare la soluzione ma in realtà è anche aumentare tantissimo l'ascolto di cose che ti interessano perché quella è la cosa ancora più importante secondo noi e detto ciò ragazzi oggi con Giulia così la conoscete un po' anche alternerò una domanda utile anche per il vostro apprendimento e una domanda un po' più personale su Giulia no? quindi la prossima è cosa ami della tua città e regione e cosa consiglieresti di visitare? difficile allora la mia regione ha paesaggi molto molto belli quindi parlando prima della città direi che è una città non troppo grande si visita abbastanza in fretta Trento e è famosa per i mercatini di Natale quindi insieme a Bolzano che è un'altra città della regione del Trentino è famosa per questi mercatini che consiglierei di visitare durante l'inverno a dicembre e anche per un castello che c'è nel mezzo della città che si chiama Castello del Buon Consiglio però nella regione ci sono cose insomma più interessanti ancora per esempio per chi ama la natura ovviamente ci sono le montagne e anche molti laghi piccolini ma molto molto carini ci sono laghi anche meno conosciuti ma bellissimi ahah e infatti Giulia abita in una regione che è vicino alla mia che è il Trentino Alto Adige e tra l'altro una delle ragioni che mi ha attirato molto a lavorare con Giulia è anche il suo accento mi piace molto l'accento di Trento è molto pulito e quindi ecco diciamo tutti i posti che ha menzionato è molto famosa per i mercatini per i mercatini quello anche in Lombardia si sa che molti vanno in Trentino per visitare i mercatini e qualcosa estivo vabbè hai detto le montagne ovviamente quindi i paesaggi si va anche a Funghi in Trento in Trentino Alto Adige certo certo sì 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 tu no tu no tu non sei mai andata giù a Funghi magari da piccola con mio nonno mi capitava ma no no adesso non vado ok però molta gente sì va per Funghi poi l'estate direi che tante persone vanno in montagna ma quello sempre perché l'inverno si va per sciare e l'estate per cercare un po' di tranquillità no dal casino delle città assolutamente e no ti ho chiesto dei Funghi giù perché io amavo andare a Funghi ancora a me piace andavo sempre con mio papà mio cugino amici di famiglia quindi siamo andati se non sbaglio una volta non so se era Trento o quelle zone lì però ecco sì quindi è conosciuta per e ragazzi se non lo sapete c'è questa cultura in varie regioni d'Italia di andare a Funghi per cercare Funghi porcini principalmente ma anche ovuli e non so se si chiamano così anche nella tua regione giù ovuli o no non sono sicura a dire la verità tranquilla chiedere l'aiuto a Carlo chiedere l'aiuto al nonno ecco esatto e comunque ragazzi c'è questa cosa dei funghi culturale nelle nostre regioni anche a Brescia eccetera specialmente nelle valli montagne eccetera ci sono tanti funghi ma detto ciò grazie giù per i consigli e passiamo alla prossima domanda che è quale caratteristica hanno secondo te gli studenti che hai visto migliorare di più durante gli ultimi mesi di lezioni di gruppo allora sicuramente la motivazione sono tutti molto molto motivati e hanno tutti moltissima voglia di imparare l'italiano in questo caso e hanno voglia di imparare insieme e anche si vede che riescono a organizzarsi quindi sono tutti molto organizzati hanno questa voglia di imparare ogni giorno un po' e quindi penso che e anche l'interesse per il paese non solo per la lingua ma l'interesse per l'Italia magari alcuni hanno un interesse particolare come per la letteratura per il cinema per il calcio no? però tutti hanno hanno qualche interesse in più e non solo non solo la lingua ok quindi c'è questa diciamo connessione in più con l'Italia che li stimola quindi ad avere la motivazione di fare le cose necessarie ogni giorno ascoltare eccetera quindi un legame più forte ottimo e a livello di caratteristica magari caratteriale tipo un non so a livello di c'è qualcosa che hai percepito beh io vedo almeno nelle lezioni di gruppo e anche nel salotto vedo tutti sempre molto allegri e positivi quindi penso che questa sia una cosa che accomuna molto tutti gli studenti di italiano per la vita e durante le lezioni io vedo sempre molta molta allegria no? e è quasi come una è un momento per stare insieme anche no? oltre che per imparare ottimo questo atteggiamento positivo anche in generale aiuta molto l'apprendimento poi con un insegnante come te come non si fa ad essere felici sarei allegro anch'io ok allora detto ciò passiamo alla domanda numero 5 ragazzi adesso personale su Giulia che anche io voglio conoscerla meglio oggi quali sono le tue passioni al di fuori delle lingue vai ok al di fuori delle lingue è complicato perché passo molto tempo con le lingue ma vabbè mi piace viaggiare che è un'altra cosa che una delle cose che più mi piace fare però ovviamente non sempre si può viaggiare quindi altre cose la lettura mi piace molto leggere e mi piace andare a cavallo cerco di andare più o meno una volta a settimana minimo e poi sto facendo un corso adesso di calligrafia araba che non sono così insomma sto cominciando però mi sta piacendo fantastico quindi viaggiare calligrafia araba andare a cavallo e leggere direi che ti occupi tutto il tempo così più o meno più o meno e giù ti faccio una domanda anche curiosità mia perché adesso tu stai vivendo in Spagna e praticamente vai a cavallo in Spagna nella tua città giusto o è un altro posto a Granada esatto a Granada e com'è andare a cavallo fare uno sport di questo tipo in un paese diverso dal tuo com'è ti trovi bene interessante penso che sia una cosa adesso io sono in Spagna da anni e quindi un po' diciamo quasi la mia casa però consiglio queste cose anche a chi magari sta imparando una lingua e va in un paese per un mese magari per due settimane se riuscite a fare qualcosa che vi interessa in un altro paese provando magari a usare anche la lingua penso sia bellissimo perché riuscite a parlare e usare vocabolario di situazioni che in situazioni magari che vi interessano e vedete anche che siete migliorati che potete farlo quindi vi motivate è molto bello secondo me sì sì no è vero è vero questa cosa di sempre unire le lingue ai tuoi hobby della vita insomma integrare le lingue nella tua vita è una cosa che tu fai moltissimo ma hai anche detto recentemente che andrai in Egitto a giugno raccontaci un attimo di questa esperienza stavo pensando appunto di praticare un pochino l'arabo visto che l'ho studiato e se c'è la possibilità insomma mi piace praticare le lingue viaggiando quindi la mia idea è quella di andare un po' all'avventura però di praticare l'arabo e poterlo parlare un pochino visto che l'ho studiato e sì penso sia una bella esperienza anche questa è la prima volta che vai in Egitto? no non è la prima volta la seconda la seconda la seconda e solo per dare anche più contesto nelle tue lingue perché molti ovviamente non lo sanno quali sono le lingue che hai studiato e quale ritieni di capire parlare adesso in questo momento allora so lo spagnolo perché vivo in Spagna adesso il portoghese l'inglese il tedesco l'arabo e adesso insomma sono interessata anche altre lingue quindi fantastico fantastico io so che non so dove l'ho letto giù se me l'avevi detto tu ma uno dei tuoi sogni era essere super poliglotta no? iper poliglotta nella vita ah sì esatto condivido condivido questo questo tuo sogno e ragazzi detto ciò passiamo alla domanda numero 6 anche se non ho già fatte altre però ufficiale numero 6 che mi ero segnato ok allora giù quale parte di italiano per la vita trovi più utile e più interessante per chi vuole migliorare il proprio italiano allora anche qui secondo me dipende tanto da cosa cerca uno studente no? perché ci sono tante risorse quindi c'è la grammatica dinamica ci sono le espressioni ci sono vari moduli sulle città o su personaggi importanti una cosa che penso che piaccia a tutti a parte il video sempre del mese quello del modulo è anche l'opzione di poter parlare quindi le lezioni di gruppo il salotto che appunto è sempre sempre attivo una persona può entrare e parlare in qualunque momento con altri con altri studenti credo che questo sia questa opzione sia qualcosa che è veramente apprezzata da tutti concordo concordo Giù pensandoci ora anch'io le due cose principali che vedo apprezzate sono il modulo principale del mese quindi il video culturale storico sul cibo con la nonna o con la mamma insomma il video del mese e le lezioni di gruppo per praticare attivare la lingua e conoscere altre persone delle altre parti del mondo perché una cosa Giù che voglio menzionare che essendo italiano automatico mondiale ci sono nelle lezioni sempre persone da tutto il mondo dici un attimo questa cosa perché non è comune di solito nei corsi di lingua ci sono tutte persone dello stesso paese quindi si è creata una cosa che nemmeno io mi aspettavo appunto ogni lezione 5, 6, 7, 8 paesi diversi è fenomenale no? sì secondo me è bello perché in tutte le lezioni di gruppo ogni settimana scegliamo un tema quindi scegliendo un tema differente ogni settimana essendoci persone differenti di paesi completamente differenti ci sono anche punti di vista differenti o racconti diversi quindi magari riusciamo a conoscerci meglio e anche aprire un pochino la mente penso io perché insomma dal dal Brasile alla Cina al Giappone insomma si trovano veramente tantissime tantissime persone sì esatto giù e la cosa interessante perché ormai non sono io e da tanto che non sono io che scelgo gli argomenti li scegliete voi gli insegnanti tipo mi piacciono molto gli argomenti che fate tipo quando legati alla cultura legati al cibo legati a abitudini perché scopri ti si apre come hai detto tu il mondo quindi vedi cosa fa una persona in Lituania in Giappone o in Germania Brasile Stati Uniti Canada insomma è veramente fenomenale è super interessante e questo mantiene anche secondo me le lezioni di gruppo interessanti settimana dopo settimana per anche scoprire il mondo non solo per praticare l'italiano quindi ecco questa è una cosa ottima e ok giù quindi questa concordo con te sono queste le due cose più apprezzate poi ci sono tante cose che apprezzano anche i moduli sulla grammatica dinamica le espressioni con la nonna la mamma così però le due principali anche secondo me sono quelle che hai menzionato detto ciò ragazzi ultima domanda per Giulia e che può essere utile anche per voi dipendendo da cosa dirà Giulia è qual è qual è la più grande lezione che hai imparato guidando più di 400 lezioni di gruppo con studenti di tutto il mondo allora io penso che tornerei sul tema della motivazione un po' penso che ho scoperto un po' che essendo una persona motivata può veramente fare grandi progressi perché io durante le lezioni vedo molte molte persone super motivate magari certi vogliono vivere in Italia e poi ce la fanno è bello anche vedere magari degli studenti che iniziano e ti dicono che vogliono viaggiare l'anno dopo dopo qualche mese e ce la fanno e fanno qualche lezione nel paese poi in Italia quindi è bellissimo secondo me vedere queste cose e devo dire che io alle volte quando finisco le lezioni con alcuni studenti che sono così carichi mi viene quasi più motivazione anche a me di imparare altre lingue quelle che ho lì da parte ogni tanto dico mi sento così carica che ho voglia quasi di ricominciare anch'io con certe lingue che sono lì no? Fantastico Giù no ottima cosa questa cosa perché cavolo hai passato tantissimo tempo con gli studenti veramente tanto tempo più di 400 ore più senza contare che tu già prima che ti conoscessi e lavorassimo insieme hai fatto più di 5000 ore c'è una roba ti chiedo anch'io questa è una domanda fuori dallo script ma Giù come hai fatto? da dove viene? forse come dite dormo poco no? da dove viene questa tua forza di volontà anche per lavorare così tanto in questa area è una passione che hai sempre avuto le lingue o è nata dopo? è quello no le lingue sempre questo sempre più o meno quando avevo sei anni ma penso che sia quello che tante volte si dice che quando lavori di qualcosa che ti piace alla fine lo fai anche volentieri quindi ho la fortuna alla fine di poter lavorare con le lingue e questo mi è sempre piaciuto quindi non pesa come cosa perfetto è grandissimo comunque ti faccio anch'io i complimenti ti ringrazio tanto per tutto quello che fai sei veramente unica e quindi era arrivato il momento di farti conoscere anche la nostra famiglia su youtube e facebook e instagram era importante per me fare questo che abbiamo fatto oggi quindi ti ringrazio e io chiedo a tutti di farci sapere nei commenti che poi Giulia vedrà ovviamente anch'io di farci sapere se vi è piaciuta questa piccola intervista conversazione naturale che abbiamo fatto se ne volete di più in futuro se vi piace l'idea è un ottimo modo per ascoltare anche italiano vero cioè io e Giul al telefono parliamo così quindi è un italiano molto spontaneo reale e cercheremo di fare argomenti variegati un po' alternati legati a varie cose e insomma ci fate sapere se è una cosa che potreste apprezzare e ogni tanto la possiamo organizzare anche se adesso io e Giul abbiamo passato due ore per cercare di capire come come impostare zoom tutte le luci eccetera perché era la prima volta che lo facevamo ma Giul saresti disposta tu o dopo queste due ore di fatica dici no mai più sì dai ormai vabbè ormai siamo esperti anche con con zoom no penso che va bene Giul allora quindi grazie grazie mille Giul ancora per tutto e ragazzi prima di salutarvi mi sono segnato di menzionare una cosa che praticamente sta per arrivare la riapertura della piattaforma di italiano per la vita cos'è in breve italiano per la vita è una piattaforma che vi apre un mondo di contenuti in italiano contenuti amicizie e modi di fare tutto ciò che vi serve per migliorare la comprensione parlato scrittura tutte le aree della lingua in un unico posto aperto 24 ore su 24 senza inizio e fine è proprio una piattaforma che è lì per voi ogni mese noi aggiungiamo contenuti e cerchiamo di migliorarla facciamolo al nostro meglio ok e quindi c'è la lista d'attesa in descrizione per chi non vuole perdere la riapertura riapriamo poche volte l'anno questa piattaforma in questa in questa fase così che poi ci concentriamo sui nuovi studenti sui contenuti eccetera e per chi non conosce bene il metodo naturale ricordo che ci sono sempre anche le sette regole di italiano automatico gratis su youtube e anche in descrizione le trovate potete lasciare la mail le riceverete una al giorno via mail con la trascrizione della regola l'audio della regola e il video così che capite bene il metodo naturale vi preparerà poi per usare al massimo anche la piattaforma ok giù vuoi aggiungere qualcosa se no vai sì che aspetto aspetto i nuovi alunni il mese prossimo a maggio e sicuramente sarà divertente quindi chi ha il dubbio che non sanno non sanno se provare se iscriversi insomma si può provare dopo in caso no si cambia però provate grandissimo concordo pienamente ok giù allora grazie di cuore ti mando un abbraccione da la Romania abbraccio a tutti va bene e ci sentiamo vabbè adesso noi ci sentiamo presto ma ok ragazzi mandiamo un bacione buona adesso è notte qua da me quindi giù a te anche a te sera quindi buonanotte a te giù più tardi da me buongiorno a chi guarderà di giorno buon pomeriggio a chi guarderà di pomeriggio un bacione